Sono Antonio Faccioni, sono il responsabile della divisione Audio Contractor di FBT e qui a Francoforte stiamo presentando tutta la linea per quanto riguarda l'installazione, la linea di Voice Evacuation, quindi tutti sistemi per allarme, evacuazione audio, impianti certificati N54, quindi N5416 per quanto riguarda l'elettronica e tutta la serie di altoparlanti N5424. L'azienda sta puntando molto, sta investendo molto sul Made in Italy, quindi tutti i prodotti sono sviluppati e prodotti in Italia e nel corso di tutto l'anno, quindi nel 2014, si proseguirà nello sviluppo ulteriore di questi prodotti dedicati ai sistemi di evacuazione. Il primo prodotto nato è il sistema compatto che è il VAI 2250, sistema compatto che racchiude al suo interno già due amplificatori e consente di realizzare 6 zone o 12 zone e questa è la sua massima espansione. Poi per i sistemi più complessi invece abbiamo dei prodotti, il controller e il router che in abbinamento ci consentono di sviluppare un impianto più complesso fino a poter raggiungere 216 zone come massimo espandibilità. prodotti certificati, quindi sono estremamente importanti per questa tipologia di impianti e stiamo sempre di più puntando su questo, su questa tipologia di prodotti. Nel corso dell'anno dovrebbe uscire anche un sistema a cui si sta lavorando che preveda anche la connessione su rete e quindi la possibilità di gestire l'impianto anche su rete, quindi è questo su cui ci stiamo orientando. Andremo ad ampliare anche la gamma dei diffusori acustici certificati, attualmente copriamo una gamma abbastanza comune, quindi dal proiettore, la tromba, diffusori da parete, diffusori da incasso e poi via via andremo a coprire anche la gamma dei diffusori acustici per esterno o comunque per installazione fissa.